buongiorno a tutti ragazzi bentornati sul canale siamo ancora qui nostra fantastica cittadina di springfield e questo oggi siamo pronti come in ogni episodio ad andare avanti con la storia con gli eventi e con tutto ciò che concerne il gioco allora io sto iniziando subito a riscuotere ragazzi perché visto che le missioni sono tante ci sarà sicuramente molto da leggere ogni maledetto giorno missione completata blitzcraft parte 2 missione completata all'argo alla musica parte 3 missione completata come vedete ci sarà molto da leggere ci saranno molte missioni da fare quindi sto iniziando veloce per non far durare gli episodi sei ore livello 56 56 anche il numero di volte che l'uomo mi ha fatto un torto 2 ciambelle nuovo livello ottimo siamo a 600 ciambelle quindi vedremo se magari portiamo a compimento un bel po di missioni magari compriamo qualcos'altro allora ragazzi ho dato una sistemata nel frattempo qui barnes sta continuando a menare soldi dentro questo suo bel ghettino di denaro guardate quella montagna usa come comincia a crescere e dicevo ho portato avanti ho dato una sistemata springfield heights perché vedete ho sbloccato istituto di tecnologia sbloccato tra l'altro ovviamente prima l'espansione per poter comprare poi l'istituto qui abbiamo già un po di missioni belle pronte che ci stanno aspettando quindi bando alle ciance andiamo a riscuotere continuiamo la nostra discussione dei debiti nel frattempo potete notare come portando avanti l'agenzia delle entrate il nostro tocco il nostro raggio d'azione del tocco sia sempre più espanso fin dello scaricabile e del lavoro missione completata quindi abbiamo completato l'evento uno molto alpa per tutte le stagioni finalmente perché lo portavamo avanti da un po di episodi d'altro completato anche azienda prodotti ittici di springfield parte 1 quindi stiamo completando come vedete parecchie missioni direi di andare subito vediamo qui che cosa abbiamo con il nostro momento udopatia 350 abbastanza me come cosa abbastanza me poteva andarci decisamente meglio e assolutamente non poteva andarci peggio visto che 350 è il minimo raccoglibile qui nel frattempo missione completata una ciambella guadagnata andiamo avanti con le missioni le sei corde completato dovremmo aver completato qualche altra missione infatti abbiamo sia quella di crusty land che il nostro addestratore canino dovrebbe aver completato e anche healthy smash marge ho portato dei crusty burger portali in cortile mi serve qualcosa per le bordure delle mie aiuole quindi completato anche healthy smashing pumpkins parte 5 dicevo infatti nel scorso episodio che la parte 5 secondo me sarebbe stata l'ultima infatti così è stato perché mi sto accorgendo di un fatto e cioè che quasi tutte le visioni evento terminano la parte 5 quindi la birra è per il cane no la birra è per lei il cane avrà dell'acqua ancora meglio e se ne va la birra gratis farà parlare di questo posto eccolo tu ladro di cani buona nulla dovresti vergognarti almeno ne parlano e infatti migliore amico dell'uomo parte 4 completata ci porta a un dilemma morale non da poco e cioè uno che si professa amico dei cani in realtà li rapisce li ammazza chissà che cosa ne fa li vende o altro e poi li manda in questo bellissimo posto paradiso dei cani non so come sia possibile che esista anche l'inferno anche se sono sicuro che sarà popolato come ho già detto tra l'altro non ne faccio segreto di chihuahua e pincher maledetti io sono sempre pro per i cani grossi sono innamorato follemente dei cani grossi e disprezzo quei cagnolini piccolini che non fanno altro che abbagliare allora dovremmo aver nel frattempo raccolto tutto sì penso ok penso proprio di sì allora iniziamo subito a sentire i nostri personaggi cosa vogliono e bart come stai mio amico di cortile ho avuto una brutta giornata gradirei molto se non cercassi di rallegrarmi forse posso rallegrarti ok come vuoi ma non suonare una qualche composizione originale solo questo lascia che ti suoni un pezzo che è composto del paragono la nuova springfield dei sermoni di john windrop posso chiederti di non usare un qualche strumento sfigato fai suonare il liuto a martin ecco proprio per eccellenza lo strumento sfigato vediamo un attimino che cosa abbiamo sbloccato vediamo l'ultima era allora l'ultima era la maison derriere adesso abbiamo sbloccato il bus della prigione ok quindi andando avanti con i livelli abbiamo sbloccato un nuovo personaggio tra l'altro centro congressi abbiamo anche portato a sblocco e sono la gente del servizio di recupero animali assunto dal sindaco le genti del servizio di recupero dovrebbero proteggere gli animali riabitandoli preparandoli per l'adozione offrono anche delle buone tariffe sui cani che hanno bisogno di una casa e di un addestramento base quei cani sono stati rubati dalle case delle città non ne hai le prove quello è il mio cane al suo microchip ed ecco qui i suoi documenti infatti piccolo aiutante ecco qui dicono tutti così il migliore amico dell'uomo parte 5 ecco questa dovrebbe essere la parte finale fai in modo che l'esmo restituisca i cani salvati quindi già dal titolo della missione più o meno possiamo intuire che restituire cani e termineremo qui l'evento andiamo avanti con il nostro polipozzo ecco i due candidati che aspirano al ruolo di mascot di japan world il calamaro di osaka che vanta un invidiabile carriera come portavoce dell'azienda di prodotti ittici di osaka e lo chef akira un uomo in carne e ossa signor calamaro potresti dimostrarci che cosa si fare cosa cosa può saper fare ragazzi è semplicemente una mascotte semplicemente un cartone animato azienda prodotti ittici parte 2 il calamaro è seguito i passi di danza infatti che cosa più può fare ragazzi è la campanella o solo un fischio costante nelle mie orecchie la campanella non abbiamo finito con la lezione ora non mi interessa se non riuscite a stare in piedi voglio vedervi correre signora anche se siamo tutti d'accordo che i bambini di springfield siano tendenti al tondo morbido e grassoccio mio pancio è pieno di cioccolato ma ora è tutto in col cestino credo che siamo anche tutti d'accordo che questo sia un po barbaro hai appena detto bombardamento non sa che non ho detto bombard sbam ed ecco una bella pallonata in faccia questa volta l'hai detto effettivamente ragione ragazzi blitzcraft parte 3 e lui deve insegnare ginnostica a questi ragazzini sfaticati inoltre abbiamo il nostro telespalabuovo che sarà sicuramente architettando qualcosa eccolo qui guardatelo vicino all'orlin come cammina indifferente ma secondo me trama trama lisa che cosa ci dice signor smitter se il signor allargo stiva di una vicenda non credo che lavoreranno mai più insieme forse possiamo inventarci qualcosa facciamo una riunione di famiglia tutti lo tuo fratello io chiamo omer da voi gli dico di venire a casa credi che papà lascerà bo per una riunione di famiglia lo farà sì dico che c'è un problema con le tubature per esempio che i rubinetti stanno vomitando nachos col formaggio che strana immagine ragazzi che strana immagine i rubinetti che esplodono di nachos al formaggio sarebbe una cosa fighissima e chissà quanto costerebbero poi le bollette ragazzi cosa abbiamo sbloccato qui a niente solo soldi niente non ci interessa niente allora abbiamo finito le missioni che dovevano essere compiute anzi o meglio portate avanti io direi prima di continuare qui abbiamo l'orlin e il capitano di mare che nel frattempo stanno ancora continuando quindi li dovremo aspettare abbiamo part che ci fa 6 secondi di missioni l'estate sta finendo quindi aspettiamo un attimino che lui ci completi la missione vediamo che cosa succede dopodiché io direi che possiamo anche chiudere l'episodio visto che oggi abbiamo una fortuna che durerà un po' di meno insomma ragazzi che dire nel frattempo metto in costruzione il portocalamaro e aggiungo una passerella no che cosa ho fatto è qui ok ecco infatti ho aggiunto una sezione di passerella guardate che bello il nostro portocalamaro ragazzi veramente veramente carinissimo bart dove sei continui a camminare dovrebbe essere arrivato perché mi sa che è la casa dei simpson infatti eccolo qui 6 secondi dai ci siamo vi quasi c'è un vicini dovremmo avercela fatta nel frattempo il nostro demogorgone cammina voilà che il tuo rapporto di credito papà ah oddio chissà che cos'è già non è che si possa fare molto perché è una carta di credito della repubblica delle banane non lo so io volevo solo entrare e comprare un paio di pantaloni è l'unica cosa che volevo aspetta qui dice che la tua conige è una carta pretoriana platinum e tu figuri come utente autorizzato cosa marcio abbiamo una carta platinum certo è così che possiamo permetterci a presentare tutte le nostre vacanze le nostre che tutti i nostri viaggi brasilio australia costa rica inghilterra toky italia francia irlanda ragazzi hanno visitato veramente tutto il mondo mi dico questo significa che avremo già milioni di punti ragazzi dove vorreste andare ci aspettano voli in prima classe messaggi al collo gratis messaggi massaggi al collo gratis alla lounge dell'aeroporto o dovremmo fare un tour ecologico delle galapagos figi non le pavamo a sanzi di sol su cui è basato fortnite omer non sprecherò tutti i punti per biglietti di prima classe su un'isola qualsiasi io prenoto i nostri viaggi usando un sistema molto specifico economicamente vantaggioso che tiene conto di offerte e promozioni effettivamente anche faccio così ragazzi va bene dove ci porterebbe questo tuo fa il gesto di virgolette sistema sistema mi propone solo due scelte che possiamo permetterci fa che siamo il posto fa che siamo il posto possiamo scegliere tra cripto crociere in un server farm galleggiante nel mare del nord che schifo sarebbe sembra una fregatura infatti un soggiorno di tre giorni alle sorte parco acquatico di monte splashmore parco acquatico decisamente ragazzi ma monte splashmore appena fuori springfield non voleremo in prima classe non avremo i nostri massaggi al collo gratis parco acquatico infatti va bene vado a prendere il costume quindi tuffi e tintarella nuovo evento completa tutte le missioni prima del 10 agosto per ottenere un nuovo contenuto cosa c'è di meglio di un parco acquatico come un parco divertimenti ma meno divertente effettivamente è così allora vediamo un po tuffi e tintarella la balena ce l'abbiamo già queste sono le cose sbloccabili oddio ragazzi quante cose ci sono ragazzi mamma mia è pieno di roba da sbloccare oddio praticamente sono arrivato in ritardissimo perché abbiamo un solo giorno infatti vedete 21 ore sono arrivato proprio tardi 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 porca misere ragazzi adesso tocca muoversi ma non vedo l'ora di arrivare a monte splashmore anche e soprattutto da quando hanno acquistato il famigerato scivolo diluvio del diavolo e l'hanno reso ancora più pericoloso cosa che e per come lisa il diluvio è lo scivolo più fantasmagorico e pericoloso del mondo puoi anche unirti a una causa legale collettiva mentre aspetti in coda non può essere tanto pericoloso ha vinto il titolo di scivolo più pericoloso america per otto anni di fila e recentemente anche il premio traguardo mortale dei parchi acquatici americani e si infatti ragione lisa siamo arrivati bene divertitevi bambini se vi fate mai assicuratevi solo che qualcuno stia firmando per la futura causa legale se il diavolo non ci mette lo scivolo parte 1 quindi adesso tocca muoverci ragazzi omer in costume completo è la prima cosa che sbloccheremo sono cinque parti adesso proprio in ritardo ragazzi sono decisamente in ritardo quindi mi devo muovere proveremo a fare il possibile edificio ci sbloccherà questa specie di scivolo l'unico completo è quello di omer in costume tuffi e tintele finirà fra 21 ore eh lo so devo muovermi ragazzi non immaginavo proprio che fosse questo tipo di evento qui quindi tocca muoversi allora io direi che per questo episodio possa essere tutto ragazzi vi ringrazio per aver seguito questo video in mia compagnia ci vediamo dal prossimo episodio auguro a tutti quanti a voi una buonissima derata e ciao a tutti ragazzi